Siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Giovanni Russo Spena, giurista democratico, militante politico del Partito della Rifondazione Comunista, insegnato per tantissimi anni all'Università, all'Orientale di Napoli. E ricordo che con Giovanni abbiamo già fatto due video interviste estremamente interessanti per chi le avesse perse, le può recuperare su questo canale che ricordo è il canale YouTube del settimanale comunista La Città Futura. Oggi volevamo giovarci delle competenze di Giovanni per affrontare un tema particolarmente preoccupante, ovvero il governo di estrema destra, che nonostante sia un governo estremista, che è assolutamente incapace e inefficace, non perde purtroppo come ci si poteva aspettare il consenso che gli permette di continuare a governare. E forte di questo il governo sta portando avanti una vera e propria transizione verso la terza repubblica, come ha detto chiaramente Giorgia Meloni. Nel senso che nemmeno la seconda repubblica liberale e liberista sembra più bastarli, e vogliono passare a una terza repubblica sostanzialmente buonapartista, autoritaria. E proprio con questo vediamo con preoccupazione che mettono sempre più in discussione lo stesso principio fondamentale del liberalismo, ma del governo repubblicano e del governo rappresentativo, che è la divisione dei poteri. E addirittura, insomma, abbiamo assistito veramente a Libeti, all'attacco addirittura a un potere che non è mai stato un potere progressista, e tanto meno, diciamo, di sinistra, la magistratura, che è stato sempre un potere fortemente conservatore. E tuttavia ormai non si tollerà più neanche un minimo di autonomia da parte persino della magistratura. Questo ci sembra particolarmente preoccupante. Senza contare con questo chiudo e do la parola a Giovanni, che l'occasione di questo nuovo attacco alla magistratura viene appunto da una questione sostanzialmente surreale, cioè dal fatto che per pura propaganda razzista, per fomentare il razzismo nel paese, si vuole portare avanti una politica che non solo va contro il diritto nazionale e internazionale, ma è assolutamente antieconomica, perché appunto deportare un richiedente asilo in Albania costa almeno 15 volte che tenerlo qui in Italia. E quindi, insomma, abbiamo già visto che molto spesso questi che vengono inviati poi devono essere riportati in Italia, quindi con spese ancora più ingenti. e nonostante questo il governo però continua su questa strada. E quindi volevamo appunto sentire il parere di Giovanni su questi temi. Sì, io sono d'accordo con quello che dicevi nella tua introduzione. Qui su due temi certamente molto complessi vi è quasi un intreccio, il governo di destra, proprio di destra a destra, penso che la Meloni, Salvini e così via stanno creando una situazione che indubbiamente ha come sfondo se riusciranno a passare, ovviamente andremo in ogni caso di fermarli, sia sul piano istituzionale, sia nelle piazze, perché bisogna ricominciare a trovare l'organizzazione sociale anche nelle piazze, anche l'auto-organizzazione, su temi che del resto mi pare che abbiamo discusso già in precedenti nostri confronti, nostre chiacchierate. Cioè non c'è dubbio che la tendenza è al prebiscitarismo, al populismo prebiscitarista e per esplicita ammissione della Meloni e per progetto chiaro, evidente della Meloni andiamo verso un superamento anche della pessima seconda repubblica ultraliberista, che poi è stata anticipatrice di una terza repubblica, che sarà una terza repubblica certamente di conservatorismo autoritario, come vi piace chiamarla, perché dire fascista o post-fascista è troppo generico e ci allontana da una visione scientifica. Io credo che siamo di fronte a forme di tipo liberista autoritario. Dico liberista perché teniamo conto che non si tratta soltanto di qualche fascismo più o meno ridicolo, più o meno grottesco, più o meno fuori tempo, come per esempio pensano molti partiti anche di opposizione. Io critico in questo senso alcune posizioni anche per esempio del PD, ma anche del Movimento 5 Stelle. Qui invece bisogna vedere l'intreccio che sta nascendo e credo che Trump sia una metafora internazionale, Trump e Musk soprattutto, chiarissime, fra queste forme autoritarie e plebiscitarie e l'esigenza del capitale, che nella competitività estrema e violenta che stanno portando avanti non ha bisogno più, lo dico così, non ha bisogno più della democrazia, nemmeno della democrazia liberale. Questo mi sembra l'assunto che unisce i vari punti della posizione di questo governo di destra a destra e anche, lasciatemelo dire, la fasia in qualche modo, la rimozione dei grossi problemi che purtroppo il centrosinistra, le opposizioni anche parlamentari, portano avanti. Insomma, qui c'è una, mi sembra, un'altezza della sfida che il governo italiano, ma anche la situazione europea, se pensiamo alla Germania, alla Francia, ai paesi nordici, ma oggi le elezioni di Trump ci pongono, la sfida è molto alta. Cioè, ho il modello autoritario, nazionalistico autoritario, oppure un altro modello che va appunto costruito, che oggi la sinistra non ha, non riesce a prospettare, ma non mi pare appunto che le sinistre oggi si pongano all'altezza di questo tema. Tema che, gramscianamente, mi piace chiamarlo un po', come dire, uno spirito di scissione. Cioè, un punto, mentre lotti, mentre organizzi anche le lotte sindacali, speriamo che se ne facciano sempre più, e o contro, per esempio, il disegno di legge e sicurezza, quindi antirepressive, tu devi avere, devi avere anche a livello popolare, a livello di immaginario collettivo, devi avere un'altra, un'altra idea della società, un'altra idea del mondo, un progetto alternativo, altro, perché altrimenti, come abbiamo visto anche negli Stati Uniti, non funziona, non funziona. Alla fine, sembra che tu sia, appunto, un centro-sinistra della ZTL, come ancora una volta ieri ha detto, ha detto beffardamente la Meloni, e oggi ha detto, di fronte a Landini, e allo sciopero generale di fine novembre, ha detto la sinistra al caviale. Ecco, siamo a questo livello qui, che la Meloni si permette di dire con quell'assalto ai salari, alle pensioni, alla precarietà, e così via, voi siete la sinistra al caviale, noi siamo il popolo. Partiamo quindi, questi sono gli assunti che mi sembrano alla base per discutere poi cosa accade sui singoli punti. Cosa accade sui singoli punti è chiarissimo. Certamente, a livello popolare, soprattutto, il tema delle migrazioni, della condivisione, della socialità con i migranti, è un tema complesso, è un tema importante, lo vediamo in tutto il mondo, si può dire oggi. in Italia è particolarmente pesante, è un tema particolarmente pesante, teniamo conto che l'Italia forse non ha mai elaborato fino in fondo il razzismo fascista, il razzismo delle colonie, vorrei qui ricordare lo splendido libro di Del Boca, degli italiani brava gente, o di Silvio Marconi, cioè, a cui tra l'altro ho fatto una prefazione, cioè che giustamente dicono, attenzione, che nella pancia del 50% degli italiani c'è il colonialismo, c'è il razzismo, quindi la situazione in Italia è particolarmente complessa, e quindi la situazione dell'Albania, che è una deportazione, insomma, diamo il vero significato alle parole, insomma, quella in Albania è una deportazione in una colonia, l'Albania diventa colonia, cioè un pezzo di Italia fuori dall'Italia, quindi una colonia, grazie all'accordo Rama-Meloni, ed è una deportazione in senso proprio giuridico, in senso classico, in base al diritto anche liberale. E dietro c'è, che cosa? Un'efficacia? No, perché non è bello tra l'altro che, come dice ogni giorno la propaganda mainstream, la propaganda meloniana, questo significa, come aveva promesso nel suo programma elettorale, buttare a mare i migranti clandestini, oppure evitare che nelle nostre città vi fossero immigrati clandestini, non è così, ci sono 5 milioni di lavoratori, peraltro anche migranti in Italia, qualche milione forse di persone che non hanno permesso di soggiorno e che non sono inserite all'interno della società, anche perché il governo non fa nient'altro che tagliare le possibilità di inserimento, taglia assolutamente anche l'associazionismo e con grande volontà e anche capacità e anche professionalità per anni e anni ha tentato di portare avanti un livello di socializzazione con i migranti. Quindi che fa? Fa una spregiudicata operazione di propaganda, proprio di propaganda, cioè insomma di presa per i fondelli, scusate il termine poco scientifico, ma capiamo, c'è una presa per i fondelli delle cittadine e dei cittadini italiani colpendo appunto il primo ho parlato di Gramsci appunto colpendo come avrebbe detto Gramsci l'immaginario delle persone in maniera ideologistica e in maniera anche truffaldina stavolta e lo fa, fa un'operazione di propaganda contro il diritto dell'Unione Europea e contro la sofferenza peraltro delle persone, dei migranti. Quindi questo è un atto di repressione sistematica e anche cattiva cattiva perché appunto in qualche modo non vi è bisogno di questa asprezza nella repressione. Proprio vi è il tentativo anche qui di colpire l'immaginario collettivo dicendo noi vogliamo essere cattivi contro i migranti. A me per esempio mi colpisce da giurista il fatto che vietano di vendere di vendere alle migranti e ai migranti che sono senza permesso di oggiorno in Italia la carta SIM per telefonare tra l'altro pure lì è efficace perché poi sappiamo che vi sono i circuiti paralleli delle carte SIM per cui i migranti comunque se vorranno avranno la carta SIM il problema è che devi essere cattivo il governo deve dimostrare soprattutto al popolo alle persone senza coscienza di classe che è cattiva qui sta il punto propagandistico il punto giuridico sarà il fatto che comunque quelle persone in carne e ossa sono richiedenti asilo quindi coperti dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione che prevede tra l'altro un diritto di asilo molto molto incisivo in Italia e sono persone provenienti da paesi che non sono affatto sicuri sta nascendo uno scontro anche qui tutto in qualche modo di superfetazione giuridicista perché poi di giuridico non c'è nulla c'è solo propaganda anche qui sull'Egitto ma l'Egitto è quello di Regeni non dimentichiamo l'Egitto è quello a cui vendiamo armi per cui abbiamo superato il caso Regeni con Crosetto l'Egitto è quello che mette in galera a botte anche all'ergastolo o uccide o tortura i critici di un governo che nasce da un colpo di stato militare non dimentichiamo o il Bangladesh sono persone detenute che non hanno commesso nessun reato questo è il terzo punto che voglio sottolineare perché la clandestinità sia per la Costituzione italiana e la Corte Costituzionale sia per il diritto europeo non è non è un reato lo è solamente nella mente della Meloni e di Salvini e quindi si tratta di vere e proprie galere etniche che tra l'altro galere etniche le chiamo perché hanno hanno un minus di regolamenti perfino cioè la visita degli avvocati la visita dei familiari ovviamente che è minore è minore di quello del carcere pur nelle pessime condizioni come il carcere italiano cioè si tratta di di privare una persona della propria libertà personale per usare termini costituzionali questo è il punto e quindi la questione giuridica è lampante se andiamo se buchiamo la coltre della propaganda e i magistrati queste toghe rosse ha detto ha detto che dovrebbero dovrebbero invece che fare i magistrati candidarsi di fondazione comunista insomma queste anche qui queste robe offensive indignitose non per noi alcuni magistrati di grande livello li accoglieremo con piacere ma ma i magistrati non potevano fare altrimenti non avrebbero avrebbero in qualche modo commesso una illegittimità che andava al di là del loro del loro potere critico come magistratura dovendo far riferimento come devono fare ad un complesso di norme e di giurisprudenze che sono molto note peraltro a livello europeo da nessuno è messo in discussione quindi questo è l'altro punto oltre a deportazioni in Albania che attraverso questa manovra propagandistica la Meloni ha creato uso volutamente questo verbo ha creato lo scontro questa volta con la magistratura per poter raccontare al suo popolo che non ha potuto tenere gli stranieri lontano dal territorio italiano perché la magistratura comunista glielo ha impedito questo mi pare che sia che sia il succo non perché lei è stata incapace non perché non sa trovare dei rimedi a quelli che dice di essere poi non lo è un'invasione eccetera ma qui vogliamo prendere per buono appunto anche i suoi giudizi beh è un incapace e non sa fare nient'altro che giustificarsi con il suo popolo con il suo popolo e i suoi elettori che non ha potuto tenere fuori gli stranieri appunto dall'Italia dal territorio italiano perché la magistratura comunista glielo ha impedito e qui nasce un punto che è importante è che si ricollega poi ai poteri all'autonomia dei poteri perché con la deportazione dei migranti in Albania con l'attacco avete visto quanto duro insensato sul piano poi del merito alla giusta e direi ovvia sacrosanta decisione del tribunale di Roma poi del tribunale di Bologna che poi non ha fatto nient'altro di porre il quesito alla corte europea cioè dici tu corte europea noi come dobbiamo giudicare i paesi sicuri quindi diciamo più lieve di così non poteva essere tra l'altro la parte di questi cosiddetti destri giudici comunisti peraltro sono stati ovattati addirittura nei confronti del governo e qui invece le destre aprono un fronte che è molto pericoloso molto pericoloso uso le parole appunto più o meno più o meno sono quelle dico a memoria Meloni dice il governo decide la magistratura deve orientare e aiutare il governo nell'attuazione altrimenti è tradimento della parte vedete qui vi sono a ghiacciare questa è una dichiarazione molto forte anche di comunicazione devo dire molto forte di cui la Meloni è capace ma qui vi sono tre o quattro abbattimenti completi della prima parte cioè della parte fondamentale della Costituzione perché qui c'è un punto che tra l'altro fu discusso anche non perché voglio fare i tiani storici ma durante il fascismo e Mussolini impose poi questo punto nella discussione perfino fra i fascisti cioè Meloni dice il governo ha il suo programma e quindi decide fa le sue leggi i suoi decreti legge la magistratura che dovrebbe essere l'organo di controllo delle decisioni delle leggi di critica del potere è classicamente la magistratura è classicamente critica del potere beh dice la magistratura deve aiutare il governo nell'attuazione del suo programma quindi deve avere un ruolo diciamo in qualche modo di sentinella a favore del governo non di critica a favore della popolazione contro gli atti legittimi del governo ma deve essere un docile aiutante dell'attuazione del governo degli atti del governo altrimenti e questo è l'altro punto agghiacciante altrimenti questo è tradimento della patria capite non l'avevamo forse mai sentito io diciamo ormai ho 79 anni ma da giurista diciamo da tantissimi anni da 68 non avevo mai sentito diciamo un rapporto tra cittadinanza statualità e poteri di questo tipo quindi si abbatte ovviamente la prima cosa poi che si abbatte come tu dicevi nell'introduzione si abbatte la ripartizione e l'autonomia dei poteri e quindi si abbatte il potere magistratuale poi Salvini poi ci mette il suo con la sua capacità di essere bieco qualsiasi cosa dica Balsalvini che dice è un traditore chi non vuole difendere i sacri confini poi poi è un traditore diciamo il giudice che interpreta la legge e che porta a rispettare a suo giudizio la legge poi esistono tra l'altro noi abbiamo ancora uno stato di diritto per come funziona insomma esistono gli appelli i ricorsi le cassazioni si va alle corte europee no è un traditore perché non ci aiuta a difendere i confini della patria dall'invasione dei clandestini capite questo è tutto perché poi non lo fanno capire i giornali e televisioni molto mainstream in questa fase poi soprattutto dopo la vittoria di Trump mi sembra che pure quei pochi che erano più critici stanno schierando e quindi cosa dice il governo che anche la critica delle strutture costituzionali intermedie è fuori legge quindi il potere della magistratura le strutture costituzionali intermedie e a questo punto siccome l'Unione Europea con le sue ovviamente con le sue giurisdizioni quindi con le sue carte corte europee corte di giustizia eccetera non farà altro che dire che i giudici che hanno detto che devono mettere piede i migranti sulla terra italiana che non può avvenire questa deportazione diciamo dal Mediterraneo attraverso una nave alla colonia alla colonia albanese e poi rinviati indietro beh insomma Borghi un importante parlamontare leghista e il gruppo leghista nel suo complesso addirittura hanno presentato un emendamento al disegno di legge in discussione in queste ore che dice abbattiamo abbattiamo le corte le decisioni della corte di giustizia europea cioè vale quello che decide il governo italiano e la corte italiana cioè cosa vale vale il fatto vale l'opinione che il governo fa le sue leggi e i suoi decreti e la magistratura deve aiutare il governo ad attuare i suoi desiderata questo è il diritto nella loro nella loro visione questo mi sembra il punto fondamentale che ovviamente abbatte assolutamente l'autonomia dei poteri io credo che che il ministro Nordio che tra l'altro è stato un magistrato nel bene o nel male può essere è stato un magistrato importante noi l'abbiamo criticato tante volte per alcune sue iniziative che non ci sono piaciute perché si può criticare mi serve per dire quest'altro punto poi e poi chiudo su questa parte si può criticare la magistratura quante volte abbiamo criticato la magistratura che appunto quasi sempre poi tra l'altro assume le funzioni di ancella del liberismo nell'ultima fase del potere non ci siamo mai risparmiati su questo punto però il timore di questa prospettiva tra origine proprio dalle parole del ministro della giustizia che ha affermato come dire di voler realizzare una radicale metamorfosi del magistrato perché questo è il punto della separazione delle carriere del magistrato del pubblico ministero trasformandolo in avvocato dell'accusa privo quindi di ipotesi di coordinamento privo di poteri sulla polizia giudiziaria o capisco che può sembrare poi lo spiego un attimo e poi chiudo un po' complesso questo punto ma la separazione dei poteri come vediamo in altri ordinamenti significa che il pubblico ministero e questo è l'obiettivo e tra l'altro Nordio ha detto che entro fine novembre vuole già approvare quindi di corsa il provvedimento in prima lettura perché poi essendo un provvedimento che attiene alla Costituzione ha bisogno delle due letture in entrambi i rami del Parlamento insomma vi sarà una una grossa opposizione da parte di noi giuristi democratici perché perché la voglia trasformare il pubblico ministero in un braccio armato del governo come come è in altri paesi lo è negli Stati Uniti ma lì addirittura c'è l'elezione c'è l'elezione popolare cioè praticamente il pubblico ministero si trasforma in avvocato dell'accusa sotto l'egida del governo e la polizia giudiziaria stessa quella che fa le indagini insomma è sotto è sotto l'egida del governo io ora non sono mai stato chi mi conosce lo sa nella mia lunga vita anche politica istituzionale non sono mai stato molto come dire dolce o giustizialista nel senso non ho mai detto hanno ragione giusta tutt'altro e sono anche abbastanza favorevole scandalizzerò un po' di un po' di gente di sinistra sono anche abbastanza favorevole a una separazione delle funzioni come del resto molti avvocati democratici anche di sinistra del tema sinistra hanno sempre sostenuto ma la separazione delle funzioni che significa che non puoi passare da una funzione inquirente a una funzione giudicante che non puoi per esempio appena hai finito di fare il magistrato fare il deputato presentato all'elezione e poi immediatamente tornare a fare il magistrato nelle stesse terre in cui hai fatto il parlamentare c'è quella porta girevole che giustamente è stata molto criticata da noi giuristi più democratici ma anche dalle persone ecco ma quindi qui c'è un piccolo imbroglio da parte appunto del ministro perché una cosa è la separazione delle funzioni a cui io sono a cui io più o meno se regolati in un certo modo sono con cui sono d'accordo se è regolato in maniera efficace con legge efficace altra cosa è invece una separazione proprio delle carriere per cui dal primo momento o fai il pubblico ministero o fai il magistrato dal primo momento da quando vinci il concorso di magistratura e per tutta la vita allora è evidente è evidente che chi fa l'inquirente cioè chi deve andare a costruire le indagini perché vi è un avviso di reato diventa diventa un avvocato dell'accuso e diventa il braccio armato del governo è una questione che sembra sottile ma non lo è è importantissimo perché vedrete se passa questa norma la stessa decisione di quali sono i reati di cui deve occuparsi la magistratura diventa fondamentale perché alla separazione dei poteri nordio collegherà il fatto che i magistrati devono occuparsi soprattutto dei reati che fanno paura alle persone come già detto quindi saranno i reati di rapina quelli dei migranti quindi come dice è il target quelli degli oppositori politici quelli degli ecovandali come li chiamano che poi sono le ragazze e i giovani che lottano in maniera non violenta in maniera gambiana contro i mutamenti climatici eccetera contro i disastri climatici e io infatti chiedo ma che succede degli evasori fiscali che succede di quelli che hanno rapporti potere mafia di quelli che sono i collegamenti fra appunto i servizi deviati e il potere voglio dire se i magistrati sono ridotti a far quello beh allora veramente in questo caso la Meloni e i governi di destra avrebbero raggiunto uno scopo che in Italia avevamo sempre contrastato per cui e chiudo per cui credo che le sinistre le sinistre il centro-sinistra parlamentare deve assolutamente mettersi all'altezza di questa sfida senza quegli quegli emendamenti quei politicismi quel dire un giorno sì un giorno no ma comunque troviamo un accordo insomma no se tu non ti metti all'altezza della sfida e fai capire alle persone qual è la posta in gioco noi perderemo anche questa battaglia decisiva sì sono perfettamente d'accordo anche perché appunto qui c'è anche una dinamica strutturale economica della crisi cioè il capitalismo è sempre più in crisi in particolare in Europa in particolare in Italia abbiamo visto gli ultimi dati sull'industria qui si perde addirittura il 15% e quindi loro pensiamo all'Italia siamo all'Italia siamo all'automotive che è un dramma e appunto e quindi appunto storicamente come sappiamo per cercare di aggirare la crisi mantenendo questo modo di produzione devono spingere sull'imperialismo e quindi sull'economia di guerra da una parte e sul neoliberismo dall'altra ma per entrambe le cose gli serve l'autoritarismo perché sono politiche assolutamente impopolari e antipopolari e da qui appunto questo diciamo buonapartismo regressivo per dirla con Gramsci che sviluppa appunto le riflessioni già di Marx del 18 Brumaio e quindi diciamo che da una parte governano perché non hanno più con queste politiche antipopolari capacità di egemonia governano sempre di più con la forza dall'altro però hanno bisogno di recuperare un minimo in maniera populistica e demagogica e quindi non possono che spingere sempre di più sul razzismo quindi più o meno sono le stesse dinamiche del fascismo e del nazismo fondamentalmente anche se in forme diverse oggi tant'è che abbiamo questo paradosso per cui oggi in Italia Berlusconi e i suoi sembrano addirittura dei moderati perché appunto sono stati ampiamente scavalcati a destra e persino diciamo gli eredi del fascismo sembrano dei moderati perché ci sta Salvini che è ancora più a destra e pensiamo appunto negli Stati Uniti dove Trump è talmente a destra che persino Bush Junior e Cinei che erano diciamo il massimo della destra si sono schierati addirittura con i democratici cioè questo per dire quello che sta succedendo e sicuramente qui si questo si lega all'altro discorso importantissimo che faceva Giovanni cioè che manca quello che manca è l'alternativa cioè manca un'alternativa credibile appunto pensiamo a Trump cioè l'unica alternativa era Harris che diceva semplicemente che lei non era Trump però non aveva nessun nessun è tutto improponibile perché poi si diceva che ha vinto Trump lei faceva la rincorsa la rincorsa a Trump era da una parte diciamo la pura continuità con Biden eh anzi diciamo scavalcando addirittura a destra cioè l'unica volta che se ne distaccava era diciamo eh a destra e dall'altra parte appunto l'unica cosa è che non era Trump però appunto se se l'unica cosa che noi proponiamo è la difesa dell'esistente ma è un esistente veramente pessimo intollerabile e poi loro sembrano quelli che vogliono cambiare le cose cioè questa è così esattamente questo sembrano loro i rivoluzionari e noi sembriamo i conservatori e poi è questo l'etichetta che anche con delle ragioni ci hanno attaccato addosso perché se tu anche il caso che tu facevi della di Kamala Harris è straordinario cioè sui migranti quando hai cominciato a comprendere che purtroppo lì Trump riusciva a picchiare nel popolo proprio anche negli operai in alcuni stati pensiamo Pensilvania Michigan Ohio eccetera beh a quel punto io ricordo ho visto appunto delle trasmissioni notturne cioè Trump diceva io li caccerò tutti via eccetera lei con il suo giustizialismo a qualche deriva dalla sua professione di procuratrice eccetera diceva io li metterò tutti in galera e tra l'altro stiamo parlando di 6 milioni di persone quindi delle robe non credibili però diceva io Trump li vuole cacciare ma io sono più brava perché li metterò tutti in galera questi 6 milioni ecco è un esempio banale però banale fino a un certo punto perché stiamo discutendo il paese più potente del mondo e più imperialista tra l'altro con una forte militarizzazione come attualmente gli Stati Uniti era lo scontro per la presidenza e il punto fondamentale della campagna elettorale era questo cioè Trump che con il suo conservatorismo in certi momenti nazista e disumano attaccava e Kamala Harris che era la figlia appunto del liberismo democratico che tanti fallimenti tra l'altro ha portato in questi anni e tra l'altro con un interventismo militare che veramente poi ha pagato e giustamente ha pagato che ricorreva che ricorreva Trump è un po' una piccola o meno una piccola metafora di cose che poi sono accadute in Germania pensiamo al ruolo dei verdi in questo governo a favore appunto della guerra fino alla vittoria in Ucraina sta accadendo anche in Italia non è che noi siamo lontani lontanissimi da questa forse in Italia può darsi che abbiamo un sindacato che incomincia ad essere più attivo può darsi e non a caso lo scandalo suscitato dalla parola rivolta che ha usato Landini perché è andato non ha detto nulla però è un fatto nuovo poi le rivolte vediamo le rivolte non si proclamano si organizzano vediamo adesso come si organizzeranno questi momenti di scontro sì sicuramente speriamo anche se purtroppo il sindacato italiano insomma sono molti anni che è in crisi proprio perché è diventato purtroppo sempre più un sindacato di servizi piuttosto che un sindacato di lotta un sindacato che fa consulenza abbiamo visto pure sull'ultimo sciopero insomma dell'istruzione del settore della conoscenza si paga acquisto insomma non si fanno più le assemblee sui luoghi di lavoro perché i sindacalisti fanno solo consulenza non hanno tempo che fare le assemblee e poi gli scioperi insomma rischiano di apparire inefficaci speriamo pure molto nel sindacalismo confettuale di base se superasse le proprie divisioni se superasse le proprie divisioni si unisse ad alcuni settori che vi sono se riuscissimo dentro adesso è un'utopia forse però credo cioè bisogna lavorare se riuscissimo a unire i settori più radicali diciamo così del confederalismo che sul territorio ovviamente ha una sua forza le sue camere del lavoro ha alla capacità in alcuni settori che certamente il sindacalismo conflittuale ha soprattutto quando non si spacca fra amici e nemici al proprio interno beh forse qualche azione di lotta qualche progetto di lotta si potrebbe portare avanti io sto in mente per esempio quello che è accaduto quello che sta accadendo nell'automotive oppure quello che è accaduto a Little Sider oppure quello che è accaduto soprattutto anche se è una fabbrica più piccola ma è significativa la GKN oppure quello che può accadere sulla logistica nella logistica che è sotto attacco pensata a Piacenza a Manto quella zona del paese insomma se alcune in alcune isole si riuscisse a creare un'unità di lotta chiamiamola così in termini generici e non ci si sparasse addosso a vicenda in base all'identitarismo che non mi sembra che oggi non ci serva più a nessuno ecco forse sarebbe meglio forse qualcosa potrebbe partire certo sì sicuramente ma tornando diciamo al discorso di prima appunto il problema come dicevi giustamente è che per esempio negli Stati Uniti Harris non aveva nessuna credibilità perché quando faceva promesse elettorali le persone rispondevano scusa ma sei stato al governo fino adesso perché queste cose che prometti non le hai fatte insomma e noi paghiamo il fatto che il PD 5 Stelle c'è le principali opposizioni parlamentari che sono poi quelle più visibili per non parlare di Renzi hanno governato fino adesso hanno fatto politica anche loro fortemente antipopolari e quindi non c'è purtroppo almeno all'interno del Parlamento una alternativa credibile cioè questo sicuramente che si paga e poi sicuramente c'è l'altro aspetto che giustamente denunciava Giovanni quello della sinistra liberale della sinistra della ZTL cioè una sinistra che non è più assolutamente in grado di parlare alle masse popolari di parlare diciamo a quello che dovrebbe essere il ceto sociale di riferimento tant'è che oggi appunto ne parlavamo pure prima di iniziare questa trasmissione con Giovanni c'è questo paradosso che nelle scuole dei quartieri popolari predomina l'estrema destra la sinistra predomina soltanto nei licei del centro cioè c'è questa situazione che per molti aspetti è veramente paradossale ed è un problema pure appunto negli Stati Uniti fortunatamente naturalmente non è così dappertutto non è qualcosa di necessario per esempio in Francia non è così per esempio in Francia la France insumis è sicuramente la forza più riconosciuta nelle baglie quindi non è una cosa diciamo necessaria come ci vogliono far credere per cui la sinistra si dovrebbe occupare soltanto dei diritti civili delle minoranze non dei diritti sociali e dei diritti economici penso penso che questo sia diciamo l'altro l'altro nodo fondamentale che giustamente abbiamo ricordato non so che cosa ne pensi io sono completamente d'accordo proprio quello che dicevi ne abbiamo discusso peraltro anche in precedenti dei nostri confronti il problema vero è se riuscissimo a trovare come dire una chiave che rimette in moto la la capacità della sinistra diciamo di una sinistra di classe cominciamo a usare questo termine io credo che in Italia manchi una sinistra di classe che non significa che che sono conservatore o siamo conservatori perché pensiamo che per l'italiato sia sempre uguale sia quello descritto da Marx a parte che io credo che che invece se noi oggi ristudiassimo Marx probabilmente sarebbe utile se i nostri compagni e compagne ristudiassero Marx che io ritengo sempre di grande attualità pur nell'innovazione sarebbe importantissimo ma il problema del classismo diciamo vogliamo classismo contemporaneo perché intanto mi ritengo un po' un eretico un innovatore non sono un ortodosso ML ma si tratta in qualche modo di rifare un'analisi delle classi si tratta di rifare un'analisi innanzitutto della composizione del capitale perché non possiamo andare avanti ancora con ricette che risalgono agli anni 50 agli anni 60 ma oggi la composizione del capitale è cambiata poi tra poco dovremmo fare i conti con con Musk anche in Europa già ne facciamo ne facciamo in qualche modo parte del suo impero ma fra poco ne avremo il problema di un'applicazione sistematica della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale quindi tra l'altro campi su cui la sinistra anche di sinistra estrema o comunque la nuova sinistra chiamatela come volete credo che sia completamente alle prime armi ma poi sinistra classista vuol dire di scoprire oggi che cos'è la classe cos'è il blocco sociale e allora significa come classificiamo in questo blocco sociale il rapporto che non è più soltanto capitale lavoro a mio avviso credo di averlo scritto più volte in questi ultimi due tre anni cioè io credo che oggi noi siamo a un rapporto di contraddizione che Marx ovviamente non poteva non poteva per i tempi assumere in questa dimensione ma che comunque ha prospettato che è capitale vita perché qui il capitale riesce a infeudare e a rendere e in maniera imperialista a controllare ogni minuto ogni secondo ogni ora della tua vita in maniera che rende precaria e praticamente tu sei una parte della stesso dello stesso modo di produzione non solamente quindi sei nei rapporti di produzione la parte sfruttata ma rientri dentro con la tua persona la tua vita il tuo cervello la tua anima la tua esistenza dentro il modo di produzione ecco se noi non riusciamo ecco perché i giovani lo sentono molto questo e poi danno risposte magari sbagliate ma se noi non riusciamo entrare dentro questa esigenza questi bisogni cioè unendo quindi quel che c'è ancora e sono milioni e milioni di classe operaria tradizionale per così dire ma che comunque vive una ristrutturazione anche di tipo tecnologico e sistemica all'interno della fabbrica con appunto questo precariato diffuso e pervasivo ma anche con per esempio con gli ecologisti che non sono più gli ambientalisti come del giardinetto ma gli ecologisti che pongono il problema dei modi di produzione e dei rapporti di produzione dentro e lo fanno in maniera non ingenua a volte scientificamente avanzata io ho fatto con loro un convegno qualche settimana fa che quindi colpiscono proprio il modo di produzione capitalistico con la loro critica perché partendo dai mutamenti climatici dagli ecodrammi eccetera vanno al cuore del problema cioè un capitale che non riesce più a fare i conti nemmeno con la sopravvivenza della natura e la borghesia ne ha paura tant'è vero che non solo li chiama i comandali ma le norme più feroci che il Parlamento sta tendendo di approvare in pochissimo tempo nel disegno di legge sicurezza è proprio l'attacco che arriva addirittura a fattispecie di reato incredibili ma ad abnormi ad abnormi pene ad abnormi sanzioni che arrivano da sette anni a vent'anni al secondo perfino voglio dire se blocchi se blocchi una strada oppure come ha voluto Salvini se fai una lotta e un blocco contro il ponte sullo stretto di Messina che invece noi vogliamo bloccare perché è un'opera incredibilmente inutile e mafiosa beh ci sono ci sono pene sanzionatorie che vanno oltre le pene che gli stessi mafiosi in qualche modo prendono nel codice penale oppure che sono certamente superiori a tutte le pene e sanzioni previste per coloro che hanno nella loro attività professionale un rapporto con la mafia cioè la cosiddetta borghesia mafiosa perché oggi la mafia non è più quella che spara ogni giorno ma invece sta dentro appunto le università dentro i ministeri sta dentro gli istituti commerciali sta dentro gli istituti finanziari e sta dentro il potere dentro l'amministrazione ecco se noi non riusciamo a comprendere che il nuovo blocco sociale si deve rinnovare in questo senso ed è possibile e deve trovare delle forme di organizzarsi ecco io credo che questa sinistra di classe non riusciremo a costruirla non è non è un tempo breve non è un tempo breve stiamo parlando però di cose che non sono millenaristiche perché poi la storia è fatta per salti si potrebbe dire vabbè Giovanni ma tu parli di cose tra l'altro che io non vedrò dato la mia età ci vorranno 20-30 anni 50 anni per costruire non è detto appunto tu giustamente ci davi franzo insumiso che è una vicenda storica importante in Francia ma potremmo anche dire alcuni aspetti della sinistra spagnola podemos eccetera cioè ci sono anche delle forme lasciatemelo dire così non vorrei attirarmi troppe critiche ma oggi voglio provocare una discussione delle forme anche giacobine vi possono essere cioè podemos è una costruzione assolutamente giacobina io l'ho seguita molto in Spagna cioè tu ti colleghi come soggettività politica e anche partitica se vuoi ma è meno importante come soggettività politica a dei movimenti che sono diffusi dentro la società dopo di che quei movimenti hanno bisogno di una strategia di uno sbocco politico e tu anche giacobinamente direi diremmo l'elinisticamente per capirsi l'intellettuale collettivo che porta una coscienza di classe dall'interno certo non dall'esterno e porta un'indicazione questo è un processo che può accadere e non è detto che non possa avere io lo spero delle accelerazioni appunto la storia è storia di lotta di classe ed è una storia che avviene molto spesa per salti quindi non è che vuole essere adesso dopo le mille analisi sulle disperanti che abbiamo fatto prima vuole essere così uno sbocciare di speranza però io credo che noi dobbiamo stare in campo per questo cioè senza ottimismi peotti ma stare in campo perché è possibile che può capitare può capitare che i percorsi si aprono e poi perché non è vero che il capitale gode magnifiche sorti progressive non dimentichiamolo mai perciò dico occorre anche un'analisi del capitale perché il capitale non è capitale dentro una competitività assoluta e violenta che non a caso non ha bisogno di negare la democrazia ma ha bisogno di guerra bisogno di guerra certo le guerre uccidono i popoli le guerre sono genocidi non ci fanno dormire la notte però se il capitale ha bisogno di guerra come si spiegava appunto a Marx vuol dire che è arrivato anch'esso a un limite nei suoi processi di accumulazione e di valorizzazione del capitale quindi bisogna anche stare molto attenti a questo punto altrimenti non ci sarebbe nient'altro che la disperazione sì giustissimo dando le conclusioni riprendendo appunto alcune cose fondamentali che hai detto innanzitutto sì questa nota di speranza è essenziale perché appunto il pessimismo della ragione deve essere sempre accompagnato dall'ottimismo della volontà e mai come oggi diciamo ci vorrebbe un'alternativa sostanziale e non la difesa dell'esistente non il conservatorismo questo è il socialismo bisognerebbe appunto riproporre l'attualità del socialismo anche perché ne parlavamo proprio ieri col professor Angelo Dorsi ricordando appunto l'anniversario della rivoluzione di ottobre le rivoluzioni proprio nella loro stessa nella loro stessa struttura sono sempre imprevedibili cioè nessuno avrebbe mai potuto prevedere nel 1917 la rivoluzione russa insomma quindi appunto le rivoluzioni sono sempre imprevedibili l'unica cosa è che uno si deve ricordava ieri Dorsi riprendendo Gramsci uno si deve far trovare pronto insomma per saper sfruttare quando ti viene a creare appunto l'occasione e qui ti pongo l'ultima domanda per andare veramente alla conclusione giustamente dicevi l'importanza della sinistra di classe e però diciamo che purtroppo il grande assente sia negli Stati Uniti che in Italia sembra essere proprio la sinistra di classe perché noi abbiamo visto e abbiamo giustamente criticato tutti i limiti della sinistra liberale che è una forza appunto conservatrice che difende diciamo il neoliberismo e l'imperialismo al volto umano e quindi fa apparire addirittura la destra radicale come una forza di alternativa ma diciamo che il grande assente per esempio pure in tutta questa partita delle elezioni degli Stati Uniti è stata per esempio la sinistra radicale che appunto prima si è schiacciata su Biden poi si è schiacciata su Harris non è riuscita non ha toccato palla diciamo in tutta in tutta questa campagna e poi vorrei venire insomma questo ti faccio l'ultima domanda per andare alla conclusione sui problemi della sinistra in Italia perché pure la sinistra radicale in Italia purtroppo al di là che è esclusa ormai è diventata extra parlamentare ma al di là di questo non sembra in grado diciamo di mettere in difficoltà nel governo di estrema destra e neanche la sinistra liberale e l'impressione è che ci siano tre tre problemi di fondo ti chiedo poi a te se sei d'accordo e che ne pensi che sono appunto il minoritarismo che ormai è stato in qualche modo assunto come se fosse un destino che porta molto spesso a due errori da una parte il settarismo e da altra parte diciamo il ridursi a fare testimonianza più che fare politica che cosa che cosa ne pensi per quanto riguarda la prima parte quello che tu dicevi sono completamente d'accordo sull'appiattimento che c'è stato anche un po' inedito ma insomma c'è stato in maniera in maniera abbastanza come dire crescente della sinistra che pure esiste la sinistra statunitense che ha anche grandi capacità è inutile citare i rapporti che abbiamo avuti anche nel passato tutti noi che tentiamo di portare avanti un progetto comunista però è molto interessante io non so cosa accadrà adesso nel partito democratico che lì poi dipende anche dalle configurazioni elettorali come sappiamo nello schema anglosassone praticamente nel partito democratico ci sono tutte le istanze dalle più moderate a quelle estreme devo dire che vi è anche qualche voto che stavolta soprattutto da parte degli arabi palestinesi ed è significativo perché è una critica poi direttamente a Biden e al suo imperialistico appoggio ad Israele al governo israeliano la prima volta c'è un 2% insomma certamente di cui vi sono gran parte degli arabi palestinesi che hanno sempre votato democratico nel passato e questa volta invece hanno votato un terzo candidato quindi anche se ovviamente in quel sistema non incide però diciamo è una piccola spia ma soprattutto è molto interessante la discussione che si è aperta nella sinistra del partito democratico non so se avete se avete letto il lungo post di Bernie Sanders o Casio Orte è rinata una discussione cioè la sinistra dopo la sconfitta di Kamala Harris la sinistra democratica perlomeno dice questo è importante dice dobbiamo ricominciare a discutere abbiamo fatto molti errori individuando tra l'altro alcuni dei punti di errore che abbiamo discusso in questo pomeriggio e dice quindi dobbiamo ripartire da un rapporto con il popolo e da una connessione sentimentale con il nostro popolo parole anche di Sanders in questo posto riprendendo appunto Gramsci quindi chissà vedremo perché qua è quello che avviene nella sinistra nella sinistra del partito democratico statunitense può influire può influire molto anche sull'Europa e probabilmente adesso vedremo come finisce il macronismo in Francia insomma è chiaro che la situazione è in movimento anche nelle strutture nelle strutture organizzate diciamo delle sinistre in Italia la situazione io dicevo prima disperante esattamente quello che tu quella che tu descrivevi la sinistra diciamo classista la sinistra che vuole essere portatrice di un progetto alternativo di società o perlomeno di un modello anche economico sociale alternativo praticamente non incide non è che non ci sia perché attenzione perché anche qui dobbiamo stare attenti perché altrimenti manchiamo nel nostro ruolo di rappresentanza c'è un sommovimento nel paese alla base del paese vi sono decine e decine anche ma anche a volte migliaia di gruppi territoriali di spazi occupati appunto da singoli issues come direbbero appunto le sinistre statunitensi dei progetti che però non arrivano mai e questo è il punto non arrivano mai all'incidenza politica non incidono sulla decisionalità né politica né istituzionale ed è vero che questo ha portato praticamente le sinistre di classe lo voglio dire così provocatoriamente ad essere delle sinistre senza popolo delle sinistre senza popolo con pochi iscritti che troppo spesso litigano al proprio interno con questioni di identitarismo estremo spaccano il capello in quattro senza capire qual è il problema di creare un fronte di resistenza contro un avversario tra l'altro così feroce così complesso e così pericoloso e un popolo invece che pure in parte lotta in parte vorrebbe lottare in parte vorrebbe come dire essere non più abbandonato nel suo isolamento è un popolo invece senza sinistra che la rappresenti perché certamente non viene rappresentata né dal Movimento 5 Stelle né dal PD che tra l'altro è un carrozzone ormai con mille correnti al proprio interno la stessa Schlein è imbavagliata da questo carrozzone quindi abbiamo una sinistra che vorrebbe fare la rivoluzione o comunque vorrebbe portare a dei cambiamenti radicali che però non ha un popolo oggi perché il popolo non crede a questa sinistra che non ha dato negli ultimi due decenni buona prova di sé non ha fatto non ha fatto nulla di particolarmente importante singole lotte sì le citavamo anche prima ma ma è mancata la connessione fra le lotte io credo che questo sia il tema principale cioè in essi delle culture che vengono espresse dalle singole dalle singole lotte di base per esempio è quello che ha tentato in maniera secondo me fregevole il Consiglio di Fabio della GKN cioè è impossibile che non si riesca a mettere insieme la lotta della logistica con la lotta per esempio contro una mobilità capitalistica che riempie praticamente a parte che sfrutta e sfrutta soprattutto dall'altro lavoratori migranti con salari bassissimi e con condizioni tremende di lavoro ma non si mette in condizione la logistica di rapportarsi a un'idea di mobilità cittadina per esempio diversa per cui abbiamo ecco basta pensare ai film di Kellogg l'ultimo film di Kellogg che è straordinario su Raiders c'è tutto un popolo che pure per esempio si è riuscito ad ottenere qualche contratto anche sindacale migliore cioè piccole acquisizioni in qualche modo si ottengono però il problema è che bisogna che la sinistra lavori innanzitutto lavori dentro questi movimenti e non fuori semplicemente a fare ideologia quindi io sarò movimentista per mia cultura ma io credo che innanzitutto come diceva il vecchio Mao chi non fa inchiesta non ha diritto di parola io credo alla sinistra ma parlo anche della sinistra a cui sono appartenuto a cui appartengo non ha diritto di parola se non sta dentro le lotte fino in fondo e se non alimenta le lotte questo mi sembra il primo punto e questo non avviene e poi abbiamo un popolo appunto senza una sinistra credibile quindi questa credibilità bisogna crearla e quindi è chiaro che se questo non avviene vi è il minoritarismo tu lo chiamavi appunto settarismo testimonianza perché a questo punto questa sinistra senza popolo trova la propria ragione d'essere nelle forme testimoniane io non non sono particolarmente severo contro le forme di testimonianza perché capisco che le forme di testimonianza nei momenti di crisi delle sinistre hanno comunque tenuto acceso delle lucine delle piccole fiammelle perché poi si aspetta che possano bruciare le praterie per il momento tenere aperte le piccole fiammelle è comunque importante quindi la testimonianza non mi vede particolarmente severo però la testimonianza non incide e io vedo anche un altro pericolo e poi per carità chiudo non voglio aprire un'altra discussione l'altro pericolo però speculare che vedo rispetto alla testimonianza è invece il politicantismo perché quanta parte della sinistra pensa in qualche modo di agganciarsi a forze istituzionali trovando degli spazi come dire trovando delle possibilità di incidere a volte anche per ragioni per ragioni carrieristiche va bene ma questo esistono e sono quanti abbiamo visto quanti centri social si trasformano attraverso le convenzioni in pezzi praticamente del potere decentrato questa questa storia la conosciamo noi militanti benissimo e però esiste proprio una tendenza da una parte appunto a essere da una tendenza speculare da una parte ad essere come dire la parte sinistra dell'istituzionalismo diciamolo così e dall'altra parte la testimonianza allora la domanda con cui chiudo è cosa c'è perché lì c'è la connessione sentimentale col popolo cosa c'è fra l'essere l'ala sinistra del PD o l'ala sinistra del Movimento 5 Stelle o di AVS e dall'altra parte una pura testimonianza pura però certo siamo puri non ci sporchiamo le mani ma non conti niente ecco in mezzo c'è o non c'è la politica questa è la domanda che noi dobbiamo farci e non è facile rispondere io non so non ho la ricetta ci lavoro come tanti altri ma non ho la ricetta perfetto grazie Giovanni è stato interessantissimo alla prossima grazie a voi grazie